Hai visto come si sta sopra? Anzi c'è una bella forza Sabato sono 100 giorni Stamistrato da solo se ne è fatti 42 42 con oggi Contano pure le ore giustamente Come le hai trovati? Beh, considerando a che cosa devono far fronte Stando là sopra le ho trovati anche bene Ancora nelle parole non c'è solo rassegnazione e rabbia Ma c'è ancora la speranza E la speranza ovviamente è legata al fatto di sapere Che la loro battaglia non è una battaglia solo loro Non è solo del loro posto di lavoro Già basterebbe Ma oggi purtroppo lottare per il proprio posto di lavoro Fa poco notizia Grazie 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 Och Grazie a tutti